Ok, allora benvenuti, siamo nell'ultimo incontro di scripting di questa sessione, quindi come avete visto abbiamo fatto un po' di lezioni tra me e Michelangelo, quindi abbiamo iniziato a fare questo giro in cui le lezioni non le tengo solo io, non le tengo solo Michelangelo, ma ci scambiamo un po' e ci aiutiamo vicendevolmente, quindi una cosa simile la faremo anche nel corso di Blender che inizierà la settimana prossima. Da prendersi qualcuno di voi è interessato anche nel corso di Blender? Inizieremo, siete già iscritti o no? Dunque vediamo un po' anche questa chat, domanda retorica. Va bene, allora come al solito noi lavoriamo anche in maniera diciamo non completamente, cioè non è che organizziamo tutti gli incontri del millesimo, ma li organizziamo man mano, quindi se per caso qualcuno di voi vuole ancora partecipare a dare degli aiuti o dei commenti o delle cose su Blender, piuttosto che su... dunque c'è una lavagna calendario alle nostre spalle che in effetti non ne avevo ancora visto e non la vedrò mai. Ah, scusate quella lì, calendario, questo qui calendario dei corsi che suppongo che cliccando comparirà, darà una note card che permetterà di vedere questo calendario. In realtà il calendario, quindi qui c'è una foto con tutte le attività del 2020 e poi c'è anche credo una note card, ok? E la foto che ha fatto credo Gigliola, che l'ha messa anche in termini di note, ci sono tutte e due. In realtà sono uno snapshot di un link che vi do anche a voi, che praticamente se voi digitate questo link, che è bit.ly edu3dcal1, quindi questo è il link. Se voi questo link, che è questo, lo cliccate, apre il browser e viene esattamente il calendario allineato in tempo reale. Quindi questo sarà... quindi vedete che stasera abbiamo scritto Salazar, 22 gennaio, il 29 gennaio Blender 1 Salazar e così via, e poi c'è anche il corso di EduVR. Anche quello sarà interessante, credo, che faremo una ripetizione un po' di alcune cose che abbiamo iniziato con il corso estivo e poi andiamo magari un pochino, leggermente più approfonditamente, sui visori di realtà virtuale, ma anche, cioè non soltanto su quelli costosi, ma anche su quelli, diciamo, Google Cardboard, che costano 10-20 euro e anche quelli intermedi, insomma, che poi vediamo. Allora, vediamo un po' questa ultima lezione. Allora, prima di tutto vi faccio notare che davanti a me c'è una scatola. Questa scatola è un guestbook, quindi quello che vogliamo fare è costruire questo guestbook. Cos'è il guestbook? Presto detto, è un oggetto che quando si clicca, quindi se noi lo clicchiamo, consente, quindi io clicco, e vedete che lui diventa impegnato ad ascoltare Salazar Stenberg, e quindi io qui gli scrivo ciao Kubo, no? Lo scrivo nella mia chat, nel momento in cui lo scrivo, lui prende quel commento e se lo inserisce, no? E qui dice, è inserito il commento. E il loaner del Kubo, che in questo caso sono io, può in ogni momento fare questo comandino, barra 1 list, che gli chiede al Kubo, list è tutto minuscolo, barra 1 list, e gli dice quali sono i commenti che ha ricevuto, e automaticamente lui mi fa questa videata, non so se la vedete, la vedete sul video, si legge bene, quindi qui c'è scritto, e qui ecco, l'unica cosa, cioè c'è la data, l'ora, il nome dell'avatar e il commento che ha scritto. E quindi è possibile registrare questi commenti, che sono dei specie di Twitter, dei tweet, che quindi cose molto, molto semplici, e il Kubo ovviamente ascolta una persona per volta, quindi quando è occupato a ascoltare, in questo caso, Susanna Locke, che ha cliccato, nessun altro può usarlo. visto che, sì, l'ora è UTC, perché l'UTC è il modo più semplice nello scripting per ottenere l'ora, ecco, notate che se per caso qualcuno clicca e poi non digita niente, non digita niente vuol dire che magari è anche lontano, perché sapete che in, nello scripting, Susanna, vediamo un po' quanto lontano sei, no, dovresti essere, ok, esatto, perché se siete tanto lontani del Kubo, quando digitate magari il Kubo non vi sente, quindi dovete essere a distanza, relativamente vicine al Kubo. Quindi Susanna Locke ha detto Fico, e io se faccio barra 1 list in questo momento, ah no, mentre il Kubo è impegnato, non riesce a rispondere ai miei comandi, perché adesso Gigliolo l'ha cliccato, e quindi siamo in zoom, adesso se faccio barra 1 list, quando è libero invece vedete che c'è tutte le cose che sono state dette. Quindi questa è una specie di registratore che funziona a comando e permette di avere un'idea di quanto, di quante persone sono arrivate e di che commenti hanno fatto. Quindi con data, ora, UTC, abbiamo visto, UTC, se non so se lo sapete, è la data di, c'è l'ora più che altro, di Greenwich, di Greenwich, come dicono loro, quindi è la data che praticamente in questo momento è un'ora indietro rispetto all'ora esatta. Dici, c'è proprio il tempo coordinato universale, che prima si chiamava tempo di Greenwich, però adesso gli hanno tolto il termine Greenwich hanno semplicemente detto che è il meridiano, che casualmente è quello lì. Quindi qui i primi commenti di Marlow è arrivato in realtà alle 21.14 e l'ultimo commento qui è alle 21.36. Qui c'è un leggero differenziale, ma era solo perché per semplicità lo script l'ho semplificato parecchio. Ok, è chiaro quello che fa questo script? Sono soliti domande che faccio in tutti i miei corsi. Quindi la prima cosa è capire, è capire, diciamo, cosa fa. La seconda cosa è capire perché è utile, quindi vi è chiaro anche perché è utile. Soprattutto in OpenSIM, abbiamo una lavagna che si è materializzata su Gigliola. Allora, sì, perché visto che siamo in pochi su OpenSIM, ma anche in Second Life, e non sempre siamo collegati nel stesso momento, se voi fate, non so, una mostra d'arte o qualcosa e avete bisogno di raccogliere delle valutazioni, delle idee, dei commenti a degli oggetti, potete inserire uno script di questo tipo e poi ogni tanto andate a raccogliere quello che è stato detto e la raccolta avviene in questo modo. Tra parentesi, osservate che questo script risponde soltanto all'owner. Ok, allora adesso il primo esercizio sarà semplicemente quello di farvi prendere una copia di questo script. Quindi voi andate in Altro, tasto destro, Altro, prendi copia. Quindi in questo modo vi trovate una copia di questo scugo nel vostro inventario. Sapete che questo, anche se leggermente più scopo, dobbiamo fare il compra, però è una delle cose più normali usate in OpenSIM. Fate CTRL-I, faccio io, andate a prendervi la copia che avete preso e magari gli cambiate nome, gli mettete il vostro nome all'oggetto in modo tale che quando lo rezzate avrà un nome diverso dal mio. Ok, ecco poi l'avvertenza che faccio sempre in questi casi è di fare il reset dello script. Cioè ogni volta che si prende uno script di questo genere conviene sempre fare il reset. Quindi si va in modifica, andiamo proprio nello script che è qua. Vedete che c'è un'opzione qua che fa Reprise in a Script. Quindi voi fate il Reprise in a Script e vedete che qui compare il numero di commenti zero. Questa parte del Reprise in a Script è importante perché è reimposta nello script l'owner oltre a zerare il numero dei commenti. Quindi non so se vi è chiaro, quindi vi sto chiedendo di fare un piccolo esercizio, quindi di prendere una copia, di rezzarla davanti a voi con il nome cambiato. Quindi cambiate il nome, vedete che io questo qui invece di Facebook l'ho chiamato Sarazar, ma giusto per così il vostro avrà un nome diverso dal mio. Poi imparate a fare questo reset degli script se già non lo sapete fare. Ci sono diversi modi per farlo, un altro modo oltre a quello che vi ho fatto vedere prima per fare il reset dello script, Reprise in a Script, c'è anche un'opzione qua in alto, contenuti, da qualche parte c'è costruisci, script e reset a script. Non so se lo sapevate, è un'altra cosa importante, quindi fate reset a script e viene ottenuto lo stesso effetto, cioè dell'oggetto che avete selezionato viene resettato. Il reset degli script, non finirò mai di dire che quando avete un script preso da qualcun altro, copiato, è fondamentale fare lo reset, così siete sicuri di partire da un punto, da un punto, siamo noto, altrimenti non si sa bene che cosa faccia lo script. poi magari lo script può anche non funzionare perché si è bloccato e il reset spesso lo sblocca, quindi questa funzione di reset è importante. Allora, se volete fare una rapida prova, nel senso che cliccate sul vostro oggetto e seguite la prassi che abbiamo visto prima. Quindi il... Notate che in teoria non dovrebbero confondersi perché ogni script risponde alla sua propria... alla persona che l'ha fatto. Quindi se io scrivo ggg, è un po' severo, io ho un oggetto, e poi l'owner, ecco, provate anche a cliccare gli oggetti di qualcun altro, quindi adesso vado a lasciare un commento, ciao Giovanna, e poi vado a questo qui, ciao Eva, ok, e poi vado un po' a fare visita alle varie cose, libro degli ospiti, ciao Lazzar, ciao Susanna, ok, quindi sono riuscito a inserirglielo anche lì, a Marlo, ciao Marlo, quindi stiamo facendo praticamente adesso, poi se qualcuno non riesce a mettergli il commento, non me ne voglia, ciao Rosaria, ok, come vedete, tra l'altro lo script è molto robusto, almeno credo, spero che sia molto robusto, nel senso che, nonostante che stiamo lavorando tutti insieme, Laura, non dovrebbe neanche confondersi, fra l'uno e l'altro, ok, quando poi siete il proprietario dello script, in teoria, nel momento in cui fa, barra uno, list, ok, gli vengono i commenti, adesso magari, i commenti che li hanno registrati, barra uno, la barra è rovescia, è quella dritta, cioè quella che sta sopra il sette, dovete scrivere proprio, barra uno, list, non so se, ok, siete riusciti tutti a, siete tutti riusciti a chiedere al vostro cubo, dell'elenco delle persone che l'hanno visitato? Anche a te? ok, quindi, allora, mi sembra che sia abbastanza chiaro il, il, l'effetto, cioè come si usa, quindi abbiamo visto, abbiamo visto come funziona, no? Cioè come, come appare, abbiamo visto che in realtà è già uno script abbastanza, diciamo, professionale, nel senso che riesce a distinguere, ascoltare solo i propri owner, a non confondersi quando ci sono altri che parlano vicino, tutte queste cose qua. Ora, fra un attimo vedremo anche come è stato costruito. Nel frattempo, prima di entrare dentro lo script, se avete domande o commenti, sono tutti, sono tutto, orecchi, o insomma, come si dice, ascoltare la chat, sono tutto radar. tra parentesi, non so se vi rendete conto, potrebbe anche essere usato per fare dei giochini. Sapete quei giochini psicologici in cui magari appunto uno dice, dimmi la cosa più bella che pensi di me, o la cosa più brutta, insomma, queste cose qua, questi giochini pseudo psicologici. o se volete modificarlo in modo tale che ci sia una textbox, sicuramente meglio, è più comodo, certo. Io adesso sono ancora fermo alla versione originale di Second Life, in cui la textbox non funzionava. Quindi non l'ho fatto con la textbox. Comunque se fai una versione con la textbox, volentieri la pubblichiamo. E tra l'altro credo che sia molto, molto bella l'idea, insomma, di farlo in textbox. Come non sei capace. Se volete lo, adesso con calma, magari non durante la lezione, perché cambiare lo script durante la lezione ha sempre un margine di rischio, ma magari poi vi pubblico, come si fa a cambiare texture? Semplicemente andate in modifica nella texture e gli passate la texture che volete. Quindi dovete avere una texture da qualche parte, questa qua ad esempio, calendario 2020, oppure addirittura, sì, e gli cambiate la texture. Quindi gli potete mettere, e se volete togliere quella che c'è, basta che clicchiate sulle texture qua e gli mettete vuota e quindi gli cancellate la text. e questo è una cosa abbastanza semplice di building, cioè io non spiego il building, ma se non lo sapete fare, lo sto facendo adesso su Zoom, quindi basta andare, tasto destro, sul vostro oggetto e poi c'è proprio la texture qua e poi qui c'è il simbolo della texture e qui poi potete andare e gli mettete insomma, quello, ad esempio qui c'è, gli cambiate quello che volete. Gli ho messo la texture, l'ho fatta così. Poi se per caso partite da zero, ricordate che dovete, se volete ottenere questo effetto brillante, dovete mettere luminosità massima, altrimenti diventa un po' opaco, diventa bello illuminato e quindi diventa una cosa carina. Ok? Buono. Altri commenti prima che passiamo all'analisi puntuale dello script? Ricordate solo una cosa, che se per caso fate il reset dello script, perdete tutti i commenti. Quindi adesso qui ho, qui ci sono 11 commenti, ma se io gli facessi il reset di questo oggetto, tutti questi commenti vengono persi perché sono in memoria. Quindi il, per, se avete un oggetto del genere e lo dovete risettare o comunque per sicurezza, quando gli fate la list, copiate quello che vi dice e ve lo copiate. E ve lo copiate magari in un documento Word o in una note card. si potrebbe anche fare in modo tale che il, questo script scriva dentro una note card, ma direi che per i fini del nostro corso fatto così dovrebbe essere sufficiente. Ricordate che nel 2007-2008 quando siamo entrati in Second Life i script del genere erano più che sufficienti per gestire delle realtà molto complesse, quindi erano, sono, insomma, è sufficiente. Ora, quando mi date il via entro ad analizzare lo script vediamo se e così vi spiego che come è fatto. Ecco, l'alisa, via, via, via. Magari, aspetta, vediamo un po'. Esatto, può essere fatto per, per molti, per molti scopi. In realtà, io lo faccio adesso in questa corsa sia perché è utile ma anche perché introduce una serie di concetti che in realtà voi dovreste avere già fatto con Michelangelo, correggetemi se sbaglio, cioè la listen l'avete fatta, cioè quindi L, L, listen e poi dovreste aver fatto anche il timer, spero, avete fatto un timer prima o poi. Sì, comunque, il timer no, ma allora lo vediamo qua, il timer è molto interessante perché permette di far avvenire un evento dopo un intervallo di tempo prefissato. In questo caso il timer io lo uso per evitare, cioè, allora, io per separare tutto, quando l'oggetto viene cliccato, si mette in ascolto, quindi si concede totalmente alla persona che l'ha cliccato, no? però se la persona per caso non risponde entro 30 secondi c'è il timer che scatta e che non gli dice di tornare in uno stato diciamo idle, io dico idle, sono mezzo inglese, non tanto perché sono inglese ma perché in informatica parliamo sempre in anglo-italiano. Ok, allora, lo script lo vediamo anche sul sito che l'ho pubblicato, vediamo un po' se lo troviamo, corso script LSL, mi sembrava di averlo pubblicato, se non l'ho pubblicato, vediamo un po' se... Ah, non l'avevo ancora pubblicato, vabbè, allora lo vediamo qua in perché non lo trovo facilmente in sul sito ma poi ve lo pubblico, non preoccupate, poi sistemo la class. Allora, apriamolo da qua, quindi andiamo sul contenuto, libro degli ospiti, doppio clic e poi facciamo per chi l'ha fatto, chi vuole installato il LSL Editor. Comunque, chi l'avesse installato si ritroverà si ritroverà praticamente questa cosa che tutto sommato però vabbè, ha disallineato, cioè ha allineato il codice ma ha disallineato i commenti, pazienza. Quindi, per il commento magari conviene vederlo qua, ah sì, perché questo qui non capisce il commento slash asterisco, cattivo. Quindi, in realtà, bisognerebbe farlo così, slash, slash, quindi mettiamo tutti i commenti come gli piacciono. vedete, questo è uno script, allora, gli script, vi ricordate, no, che c'è il barra barra che serve per fare un commento, serve solo per spiegare come funziona il, anzi, facciamo così che fatto da qua divento matto, quindi chiudo, quindi chiudo, ah no, vabbè, mi sono rovinato con le mie mani, quindi conviene a questo punto tornare, ok, quindi questo, ok, vediamo un po' se, va bene, allora, dicevo, chi l'ha installato vedrà che usando questo editor è un pochino più comodo scriptare e non so se si vede dal screen in zoom comunque c'è una parte di commento dove spiego praticamente quello che voglio fare c'è quello che dice che fa il file poi c'è una parte qua dove ci sono delle cose che usiamo le variabili le variabili globali si chiamano poi ci sono due stati uno stato che si chiama default e uno stato che si chiama leggi opinione quindi vediamo un po' qual è quello che voglio fare io voglio avere una lista quindi vi ricordate l'ultima volta che abbiamo visto insieme la lista l'ho fatto lista di quadri o lista di oggetti di texture in questo caso la lista conterrà l'insieme ogni elemento della lista contiene una data ora il nome dell'avatar e il commento quindi man mano che arrivano dei commenti vengono agganciati a questo guest l'ho chiamata sarebbe guest list probabilmente poi ci sono una una key avatar che conterrà il nome dell'avatar che sta cliccando il nostro oggetto insieme al suo nome e poi per comodità ho messo semplicemente un vector cioè sarebbe una tripletta di numeri che rappresenta il colore bianco l'abbiamo già visto no? questo in qualche lezione precedente quindi queste quattro righe vi sono chiare che cosa rappresentano cioè cosa vogliamo metterci in questi posti cioè noi praticamente in ogni script ha bisogno di avere dei posti dove mettere dove annotarsi delle cose quindi la cosa più importante in questo script è avere una lista di tutti i commenti però deve anche tenersi nota di qual è l'avatar che lo sta cliccando e poi questa è una comodità più che altro invece di scrivere uno 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 che è il codice del bianco preferisco scrivere white allora la convenzione nello scripting è che le costanti cioè costanti vuol dire sono i valori che non mutano vengono scritte tipicamente tutte in maiuscolo quindi vedete che qui abbiamo null key che sarebbe un avatar vuoto è tutto maiuscolo e poi c'è white che è una costante che è tutto in maiuscolo invece i nomi delle variabili vengono cioè dei posti dove andremo poi a mettere le cose di solito vengono messe in questa modalità quindi gli mettete un nome che se è composto viene usato questo sistema in cui si mette le iniziali alternativamente cioè con le iniziali in maiuscole quindi nome avatar scriviamo nome minuscolo e poi quando cambia qualcosa si mette per ogni parola la prima lettera in maiuscolo non so se è chiaro questa è una convenzione questa però aiuta un po' a leggere quello che c'è scritto lo script quando entra entra nello stato di default che è questo qui e nello stato di default la prima cosa che fa lo script è quello di eseguire lo state entry questo credo che tra me e Michelangelo ve l'abbiamo detto giusto che quindi vi dovrebbe essere entrato in test ogni volta che parte lo script quindi fate un reset lui entra in uno stato che è questo il default e all'interno di quello stato esegue cioè effettivamente siete sicuri che succeda quello che c'è dentro lo state entry e dentro lo state entry abbiamo questo comando ll7 text che dice di mettere in colore bianco sopra il mio oggetto dice di clicca per lasciare un commento poi va a capo e dice quanti commenti ci sono fin qua e il numero di commenti è la lunghezza della lista guest quindi guest è una lista che avrà 0, 1, 2, 3, 4, 5 eccetera allora dico quanti commenti ci sono io chiedo quanto sei lunga la lista dei commenti questo sarà un numero il numero deve essere messo come stringa altrimenti il altrimenti lo scripting si arrabbia quindi devo mettere devo trasformare il numero in una stringa e a questo punto l'unica cosa che è interessante è che lo metto in ascolto sul canale 1 perché l'owner potrebbe dirmi list allora se l'owner mi dice list io devo scattare e obbedire all'owner che mi ha scritto list questa forma della lista non so se Michelangelo l'ha fatta di solito di solito la lista viene usata con null key qua e con tutti gli altri parametri vuoti giusto vediamo un po' se qualcuno ok quindi voi potreste domandarmi come mai gli ho messo gli ho messo invece dei parametri allora se voi vedete il tra l'altro uno dei vantaggi del lsl editor è che se vado su un comando lui mi fa vedere la sintassi e mi spiega com'è cosa fa quindi io sono andato su llllisten lui mi dice lllisten integer channel string name key di string msg allora cosa fa lllisten è fatta in questo modo e allora se sono diversi da vuoti vengono immessi dei filtri quindi quando io metto qui lll get owner vuol dire che filtro soltanto le chiamate fatte dall'owner senza neanche dover fare il test dopo e mettendo list qua in fondo vuol dire che accetto dall'owner solo quelle chiamate cioè solo quando voi digitate list viene fatto scattare questo questo comando e il comando quando viene fatto scattare va direttamente alla listen quindi voi quando scrivete barra 1 quindi voi quando scrivete barra 1 qualcosa allora il qualcosa viene mandato sul canale 1 e qui stiamo proprio ascoltando sul canale 1 vi chiaro questo meccanismo per cui quindi io riesco ad ascoltare solo l'owner che dice un certo comando e quando dice questo comando scatto qua e scatto qua e quello che faccio è quello di listare i commenti e per fare i commenti devo fare questa complicatissima istruzione dico complicata ma in realtà sono abbastanza normali in 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 nel scripting in cui praticamente si scorrono tutti i commenti che sono contenuti in una lista e per farlo si prende un indice che va da 0 alla lunghezza della lista con il numero escluso quindi se la lista ha 5 elementi questo for va da 0 a 4 perché si va parte da 0 si arriva a 5 escluso per cui c'è un minore della lunghezza e poi ogni volta si incrementa quindi questo for vuol dire che tutte le volte girerò la prima volta valgo 0 poi valgo 1 poi valgo 2 poi valgo 3 poi valgo 4 che sono quindi tutti gli elementi della lista quindi questo for fatto così serve per vedere tutto ciò che c'è nella lista e quello che c'è nella lista faccio nell'l owner 6 quindi lo comunico al al mio owner quindi nessun altro lo vede quindi il contenuto del guestbook rimane privato e man mano faccio vedere l'indice quindi posizione 0 c'era e gli metto gli vado a prendere l'l list to string della lista e della posizione questo vuol dire semplicemente estrarre ok ciao Cristiana quindi questo qui vuol dire semplicemente estrarre dalla lista l'elemento iesimo quindi la lista si chiama guest che ha 5 elementi e gli prendo lo zeresimo elemento per convenzione lo zeresimo elemento è il primo poi l'uno il secondo e così via tra l'altro questo fatto che le liste iniziano da 0 forse l'ho già accennato nella lezione sulle liste ma spero che chi almeno ha fatto quella lezione dovrebbe ricordarselo ok allora quindi facendo questo for e estraendo l'elemento iesimo da guest con l list to string si fa vedere tutto il contenuto della della lista quindi tutti i commenti che sono arrivati e qui è semplicemente il titolo è l'università del titolo e poi quando sono finiti i commenti dice fine commenti ok allora questa parte qua di l listen 1 e del comando list vi è chiara beh allora il fatto di fare lo script da 0 è sempre una cosa complessa quindi non è difficile insomma che voi impariate dai miei corsi a imparare proprio tutte le trucche eccetera per quelli ci vanno anche di progetto però la cosa interessante chiaro adesso è annebbiata adesso è interessante che abbiate gli strumenti per lo meno per capire per capire vagamente che cosa stiamo cercando di fare quindi cioè quindi la prima cosa cioè qui siamo di fronte al linguaggio quindi prima di tutto dobbiamo conoscere quali sono i vocaboli le lettere che usiamo poi dobbiamo impariamo a scrivere le frasi quindi facciamo le singole frasi che sono le singole istruzioni anzi forse diciamo che l'alfabeto sarebbero le singole istruzioni e le frasi sono dei blocchi di istruzioni come queste quindi questa è una frase che descrive un certo concetto e poi la capacità di scrivere di scrivere un programma intero equivale alla capacità di comporre un tema no? cioè per comporre un tema bisogna avere in testa in testa un progetto e avere quindi tutti gli elementi che per farlo insomma cioè non è che il bambino riesce a fare un tema subito no? quindi voi adesso siete molti di voi sono dei bambini a imparare lo scripting quindi la cosa che è più importante che sappiate che sappiate insomma leggere l'alfabeto è scrivere delle frasi elementari e più o meno capire delle frasi elementari se le vedete anche scritte da un altro poi la visione di insieme quella ci impiegherà sempre un po' più di tempo ok quindi state entry con la listen e la listen che lista il contenuto ma l'aspetto più interessante invece capita quando si fa il touch quando noi tocchiamo allora prima cosa cerchiamo di capire chi ha toccato quindi facciamo questo comando che si chiama ll detected key che se andiamo a vedere ll detected key ci dice ritorna la chiave dell'oggetto l'ennesima chiave dell'oggetto se non c'è nessun oggetto torna null key comunque in questo caso torna la key dell'avatar e noi ce la registriamo in questa variabile avatar che avevamo inizialmente messo a null e poi diciamo a questo punto entriamo in uno stato che è quello che vi ho detto in cui il nostro cubo rimane diciamo vincolato a leggere l'opinione quindi ci spostiamo e andiamo in questo altro stato che si chiama leggi opinione vedete scritto state leggi opinione vuol dire che non c'è più questo stato di default ma siamo in questo stato ok allora quando si cambia stato la cosa che succede è che viene sempre eseguito lo state entry quindi quando qualcuno tocca viene salvato il suo nome cioè la sua chiave si va su legge opinione che è questo e vengono eseguite queste istruzioni e queste istruzioni cosa dicono? di prendere il nome dell'avatar quindi l'avatar questo qui è una chiave numerica se avete presente quelle cose complicate che ci sono sugli avatar le esempio tanto per dire voi avete lux tergeste vediamo un po' c'è una chiave dunque se vado sul profilo di lux vedete che qui c'è una uid questa qua 152b0d4 eccetera è la chiave di lux tergeste allora lui dentro il computer legge tipicamente preferibilmente questi numeracci ma noi invece abbiamo per vivere abbiamo bisogno di avere questo il nome e la funzione che trasforma il numeraccio in un nome interessante cioè per noi è questa llk2name vedete che dice se il nome se la chiave è nello stesso simulatore ritorna il nome dell'oggetto e dal nostro punto di vista torna il nome dell'avatar a questo punto lui fa una ll set text e nella ll set text dice libro degli ospiti occupato a rispondere a dice il nome dell'avatar che è appena calcolato in bianco questo si poteva anche scrivere white perché ce l'avevamo fatto e uno perché lo vogliamo vedere quindi questa cosa qua è quello che fa comparire quella frase lì che avete visto prima in più viene fatto un ll 6 0 quindi in chat pubblica viene stimolato l'avatar che ha toccato dice senti tizio tu che hai cliccato digita in chat il tuo commento entro 30 secondi e visto che lo digita in chat per ascoltarlo abbiamo bisogno di fare una ll listen di 0 perché la 0 abbiamo visto che la chat locale e poi se notate gli metto questo filtro avatar avatar è proprio la chiave dell'avatar in questo modo questa listen risponde dunque lo script collega lo collega solo ai fini della dunque questo nome avatar è solo una cosa che serve a noi per farti quando io dico sopra il nome dell'avatar lo scrivo nel nome vostro quindi eva cry piuttosto che analisa se no se io qui avessi scritto avatar qui ci sarebbe scritto 05 f4 96 7779 numero lunghissimo quindi il collegamento fra due cose viene fatto attraverso questa decodifica che qua che però viene fatto appunto solo per semplicità nostra per umanità altrimenti lo script non ne avrebbe bisogno e poi invece il nome numerico fatto questo qua questo qui praticamente vincola l'oggetto ascoltare solo la persona in questione che si chiama avatar e non tutti gli altri infatti se vi ricordate non c'erano confusioni fra i vari script cioè man mano che la gente scriveva il suo oggetto ascoltava solo la persona implicata e poi però abbiamo questo questo concetto del timer cioè che io non voglio che l'oggetto muoia se per caso l'avatar sparisce se l'avatar sparisce quello che va cliccato o si dimentica di scrivere in chat questo script sarebbe bloccato allora per evitare che lo script si blocca io faccio un ll set timer event di 30 e gli dico guarda che c'hai 30 secondi a disposizione se non rispondi entro questi 30 secondi io non ti ascolto più e ti ignoro quindi abbiamo fatto un ll set timer event di 30 secondi e questa cosa viene obbedita allo scadere dei 30 secondi e allo scadere dei 30 secondi praticamente succede che viene detto tempo scaduto e poi si ritorna allo stato default questo in cui a questo punto il nostro cubo diventa in nuovo pronto per essere toccato oppure per rispondere al owner se vuole sapere l'elenco delle cose quindi vi è chiaro il funzionamento del timer per inciso una cosa del genere se potete qualcuno mi ha chiesto ad esempio come fare una scritta che scompare dopo un po' di tempo si può fare una cosa simile se si fa l'll set text e poi si fa un ll set timer event con tot secondi e poi il timer quando è scaduto il timer si fa un ll set text di vuoto in modo tale da far cancellare la scritta o il timer può essere lungo credo addirittura giorni addirittura giorni anche se non so quanto abbia senso farlo di giorni comunque può essere di solito si fa il timer più o meno di una cosa di questo genere insomma il problema del timer però è che funziona male se viene fatto con intervalli di tempo molto piccoli quindi per intervalli di tempo minori di un secondo non funziona bene quindi diciamo che il timer di solito si fa per intervalli di tempo e che siano almeno un secondo questo avrei potuto chiamarlo questo è un nome esattamente come queste variabili qua le ho scelto io come chiamarle anche questo questo potevo chiamarlo stato 2 potevo chiamarlo cubo occupato potevo scriverlo in dialetto veneto ma è un testo più lungo qua legge opinione dell'avatar che ha premuto il tasto mentre era qui credo che si possano mettere delle faccio questa cosa qua ad esempio qui se faccio così faccio salvo vediamo un po' se me lo compila sì direi che è funzionato anche così quindi puoi mettere anche dei nomi lunghi l'importante è che non puoi mettere però degli spazi dentro avrai notato che dentro il nome dello stato se io avessi messo uno spazio dentro il nome dello stato e poi salvo direi che si arrabbia un briciolo e mi dice guarda che qui non va bene quindi finché non metti degli spazi dentro il nome va tutto bene poi se facciamo ctrl z torniamo alla versione precedente ctrl z e ma syntax error è ciao Giulia syntax error in generale vuol dire semplicemente un errore di sintassi vuol dire che non è scritto bene poi cosa sia ah sì si possono anche mettere delle lineette quindi tu puoi fare leggi opinione quando si usano i trattini si può evitare di mettere la maiuscola allora anche questo è possibile leggi opinione questo si può fare però non si possono mettere delle cose complicate tipo mi sembra che se mettete ad esempio leggi così andiamo un po' mi sembra che si arrabbi vedete syntax error se metto trattino in basso è quello che ho messo prima se no se mettiamo vediamo il trattino trattino normale così mi sembra che anche questo no il trattino no syntax error quindi solo il trattino in basso ok quindi nei nomi ma questa stessa cosa vale anche per qua nome avatar nome avatar così qui si incazza perché appunto dobbiamo cambiare il ah no non è in realtà nome avatar chiamiamolo chiave avatar key avatar che è più giù corretto quindi key avatar dobbiamo però ricordarci di cambiare tutto dove c'era avatar dobbiamo ricordarsi di mettere key avatar quindi anche qua ecco una cosa importante una cosa importante è che non potete mettere dei numeri all'inizio nel senso se voi mettete uno key avatar quello non va bene infatti vedete che lo fa vedere rosso perché le variabili iniziano con possono avere un numero dopo no ma non all'inizio quindi key avatar abbiamo un errore tra l'altro vediamo un po' synthese checker ah sì è invegliato vabbè facciamo facciamo un undo in realtà mi sono confusionato leggi sono confusionato nel senso che questo era il key avatar questo era proprio il nome avatar sì no allora quindi ctrl s lo salviamo facciamo facciamo così facciamo qui che così lo correggiamo qua syntax error avete qui state legge opinione perché c'è il trattino alto mettiamo legge opinione così e legge opinione così dovrebbe andare ok quindi io direi ho esplorato lo script se avete ancora dei dubbi su questo su questo script sono qui che possiamo ancora vederlo quindi questo forse facciamo una facciamo solo una domanda di tutti questi argomenti qua scrivete qual è l'argomento che secondo voi vi sembra più difficile in questo script ognuno di voi scrive la parte che gli sembra più complicata lo scrivete o qui in chat vediamo un po' o anche qui in zoom group che forse riesco ok ah e le legge guest time scusate mi sono dimenticato di dirlo prima quando fate qui ecco dunque c'era appunto il punto in cui veniva agganciato il ah questo qui quando si fa il listen non l'ho commentato prima scusate avete ragione voi prima quindi ho commentato il timer ma mi sono dimenticato mi è sfuggito prima di dire quando la persona effettivamente ascolta qui ascoltiamo sul canale 0 e la persona digita effettivamente il suo commento quindi andiamo su listen questo non l'ho commentato è rimasto fuori quindi il messaggio che ha scritto è questo questo messaggio insieme al nome dell'avatar e insieme a ll get timestamp che è una funzione che se andate a vedere allora qui in realtà non la dice un granché però se andiamo a vedere la documentazione di ll get timestamp quindi ll get timestamp su lsl ecco second life wiki ok torno una stringa che corrisponde alla data e l'ora corrente nella zona utc nel formato anno mese giorno ore minuti secondi e poi anche centesimi in secondo quindi quello ll get timestamp serve proprio per mettere questa informazione e questo più uguale che vedete è un comando magico il più uguale che nel linguaggio informatico vuol dire aggiungere quindi più vuol dire aggiungere è uguale vuol dire aggiungi e sostituisci quindi nel senso che guest viene modificato aggiungendo un elemento infatti scusate proprio il passato prima mi ero fermato un attimo a vedere quindi guest più uguale questo qui è diciamo forse il comando più importante di tutto questo script ed è quello che consente di accumulare man mano i commenti che vengono fatti dentro infatti poi vedete subito dopo che ha preso il commento quindi guest è diventato un commento più lungo a questo punto viene detto inserito il commento quindi conferma che lui ha capito che avete inserito quel commento e poi state default torna a questo punto nel stato principale dove dice dove si segna che c'è un commento in più e così via quindi a questo punto abbiamo sviscerato effettivamente anche quest'ultima parte ora quello che diceva quello che diceva Lux credo era Lux che diceva di mettere al posto della listen fatta in quel modo lì si potrebbe però non mi ricordo come funziona com'è che si chiama lltxtdialog quindi si potrebbe fare un no non qua ma lo facciamo nella leggi opinione invece di fare un lll listen fatto così facciamo un lltxt no non mi ricordo com'è com'è la sintassi quindi la chiediamo textbox si chiama lltxtbox quindi magari visto che abbiamo un minutino in più quindi facciamo lltxtbox questo è diciamo un argomento un pochino più avanzato ma però è effettivamente molto elegante se noi al posto dell'lll listen gli mettiamo lltxtbox vedete che vuole una chiave che è l'avatar che per noi sarà appunto avatar messaggio vuole il messaggio che vogliamo dire alla persona prendiamo da qua ctrl c ctrl v quindi a questo punto non c'è più bisogno di mettere questa istruzione e poi vuole il canale su cui ascoltare questa cosa che gli diciamo gli diciamo un un canale di fantasia 999 non c'è più bisogno dell'll listen se non vado errato questo qui dovrebbe funzionare quindi digita ah punte virgola digita non in chat ma a questo punto nell'll textbox salviamo questa cosa e faccio vedere com'è la differenza di comportamento avendo messo lll textbox qua quindi praticamente torniamo in nel nostro questo se io clicco su questo vedete che mi compare in alto a destra questa cosa è molto graziosa che mi dice ciao sono salazar ho visto la tua installazione e pensavo di dirti che mi piace no? invia ora dunque fai un po' vedere no non l'ha preso in realtà il commento quindi direi che lo studio ancora un pochino ah no infatti non l'ha preso perché non l'ha preso vediamo un po' se riesco a trovare in due secondi esatto sì sì però dunque ll set textbox vediamo un po' ll textbox channel e niente vediamo un po' cosa faccio channel ma in realtà avrebbe dovuto ah bisogna metterci ancora un listener ah ok perfetto vuole listener dobbiamo fare listener no no c'è proprio vuole comunque listener quindi l'avevo tolto ma in realtà sono stato precipitoso bisogna dirgli di ascoltare sul canale 999 che è lo stesso che gli abbiamo detto sotto questo e poi dobbiamo dirgli di nuovo il chi ascoltare e chi ascoltare qui abbiamo il avatar così adesso riproviamo a vedere un attimo se è questo il problema quindi aspettiamo qua facciamo ciao 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 invia e vedete inserito il commento se faccio il nuovo se volete provare eh esco qui finché avete ignorato quindi dobbiamo aspettare 30 secondi che che riparta lo script che torni nello stato default ecco quando poi è ripartito se volete provarlo anche voi uno di voi a mettere i commenti no però finché non è scattato i 30 secondi sì tempo è scaduto adesso se qualcuno di voi vuole toccarlo ecco Maria Pietra ok direi che qualcuno sta rispondendo ok questo qua questo qua è di destra questo qui lo togliamo perché il centro ha tolto e poi a questo punto inserito commento se faccio avere uno list ci sono e sono venuti i commenti che avete messo quindi il mio ciao ciao Maria Pietra Paolo Sgro e Annalisa Di Piero vi piace questo modo di lasciare i commenti sì in effetti è più evoluto e francamente a me non veniva in mente perché è proprio una cosa che pur essendoci stato nel linguaggio di scripting non ha mai funzionato fino al 2015 2016 e quindi non allora per tutti quelli che volessero eventualmente questo pezzo di codice modificato ve lo scrivo in questo momento in chat l'inizio quindi lo state ente di legge opinione e poi magari lo andrò a mettere anche sul documento che poi alleggo alla benissimo allora a questo punto il compito che poi vi darò da fare sarà semplicemente di personalizzare personalizzare vuol dire farlo appena appena un filo diverso da come lo vedete voi qua e di metterlo all'interno di un vostro di una vostra realizzazione in modo tale che poi quando faremo poi la visione di tutto e poi faremo in modo tale che la gente si sbizzarrisca a lasciare i commenti e quindi voi potrete avere questi riferimenti indiretti ok allora io credo che per la lezione di oggi è tutto il corso anche diciamo almeno nella parte che stiamo gestendo così è finita ma probabilmente alcune di queste cose che stiamo facendo le metteremo poi in mostra proprio per per giocarci insieme oppure se volete anche metterle non so se se vi interessa molto potete anche mettere alcune di queste cose o varianti se volete nelle vostre escape room so che state lavorando sulle escape room ripeto per evitare di impazzire se proprio la volete mettere mettetela nel modo più semplice possibile così non sì invece ti ho fatto cambiare idea ah tu dici perché hai finito il corso ma il corso in realtà ne rifaremo altre probabilmente nel futuro ma era cioè io ho iniziato a fare questi corsi un po' misti in modo tale da portare avanti tutte le varie parti e lo scripting tra parentesi erano diversi anni che io personalmente non ne facevo più di corsi di scripting io ero nato come nel 2007 ero nato nel 2007 e facevo praticamente corsi quasi esclusivamente di scripting poi dopo mi ero un po' ampliato insomma delle altre cose ma lo scripting è sempre è sempre una cosa molto interessante direi a questo punto che ci siamo quindi chiudo la registrazione e comunque ci sentiamo sui forum o su su tutto quello che è necessario e anche per le prossime per le prossime per i prossimi incontri quindi blend la prossima settimana e poi per chi è interessato ed UIR buonanotte a tutti vediamo un po' se riesco grazie a tutti